Tifosi nerazzurri, ben ritrovati, torna in prima serata l'appuntamento con Extra Time. Per la prima puntata di questo 2019 è ripreso il campionato di Serie A con la prima del girone d'andata. Un pareggio a reti inviolate è arrivato a San Siro contro il Sassuolo che di fatto si conferma. Un avversario ostico per la formazione di Luciano Spalletti, anno nuovo ma la formazione non cambia. Allora vado subito a salutare e a presentare Massimo Paganini. Ciao Federica, ciao Alberto, buonasera a tutti. Buon anno visto che non c'è stata l'occasione di fare l'augurio per il nuovo anno. Buonasera, ben ritrovato anche a te Alberto. Ciao Federica, ciao Massimo, buonasera, ben ritrovati. Approfondiamo la nostra analisi con il punto tattico. Max, quali sono i quattro spunti di oggi? Ma direi, l'abbiamo già sottolineato, la sicurezza difensiva ma quello credo sia un dato oggettivo. Insomma c'è poco da discutere da questo punto di vista ma è molto importante. L'incisività di Politano e il ritorno di Vessino perché sono due giocatori importanti sicuramente. E poi la catena di destra, volevo sottolineare come ha lavorato comunque bene al di là di tutto la catena di destra. L'ha fatto altrettanto bene la catena di sinistra perché è stata abbastanza equilibrata come partita. Però diciamo che parte delle azioni o delle azioni importanti soprattutto nel primo tempo sono arrivate da quella zona di campo. Andiamo per ordine, partiamo dal primo. Assolutamente sì, beh la sicurezza difensiva c'è solo da parlarne. Qui ci sono delle immagini che vanno ma credo che al di là di tutto si possa partire da dietro. Partendo da Andanovic che ha dato sicurezza al reparto. Che è passato anche attraverso delle difficoltà perché proprio nella partita con il Torino ad andata ci ricordiamo un suo errore se vogliamo. Però è continuato a crescere in maniera esponenziale al mio modo di vedere. Ha trovato quella sicurezza e quella tranquillità che trasferisce al reparto da destra a sinistra che giochi D'Ambrosio, Versalico. La squadra fa bene e i centrali adesso sta giocando poco Miranda, stanno giocando Escrini e De Frey. Ma al di là di tutto la solidità c'è soprattutto negli uno contro uno concedendo veramente poco all'avversario. Nel primo tempo ha fatto molto bene. E a sinistra che giochi Asamoah sta facendo molto bene. Al di là di tutto anche dopo l'errore col PSV Eindhoven si è ripreso molto bene. Quindi direi che se prendiamo il reparto sta facendo veramente bene. La solidità però è data dal fatto che la squadra tutta nella fase difensiva fa i sacrifici necessari per impedire all'avversario di avere delle possibilità importanti. Poi un focus su Matteo Politano che era anche il grande ex della sfida. Sì, lo facciamo puntualmente. Ad ogni partita era l'ex della sfida. Non gli è pensato più di tanto perché a mio modo di vedere ha fatto una buona gara. Soprattutto lui è molto bravo a sfruttare quelli che sono gli uno contro uno. Qui vediamo nella fase iniziale. Questa è forse la prima azione che si svolge intorno al trentesimo del primo tempo. Se non sbaglio è quella nella quale lui va a mettere pressione agli avversari. Si parte da qua proprio. L'Inter ha giocato molto alto. Ha detto bene Spalletti. Ha fatto una buona gara anche sulla fase della pressione alta. E quindi è riuscito a mettere in difficoltà il Sassuolo. Eccolo qui Politano che va a ricevere in mezzo all'area. Si stacca i cardi in questo caso. Lui colpisce il pallone di testa. È una sponda che non riesce benissimo. La palla a Valsassuolo. Pronto all'Inter comunque. Molto alta. Qui Asamoah che va ad intervenire. Prende la palla che va a Perisic. Questa palla arriva nel mezzo. Di nuovo Politano va all'interno dell'area di rigore. C'era solo lui all'interno dell'area di rigore a calciare quella palla. Che poi è bravissimo. Consigli a togliere dalla porta. Perché fa veramente una parata incredibile da questo punto di vista. Salve il risultato. Perché come ho detto prima. Sbloccato qui il risultato. La partita sarebbe stata un'altra sicuramente. Però non c'è stato qui invece nel secondo tempo. Lo vediamo ancora nell'uno contro uno. Lui è molto forte. Vanno a raddoppiarlo. Lui riesce comunque ad uscire dal raddoppio. E quando hai un giocatore che ti salta l'uomo all'avversario così. Chiaro che porti superiorità numerica. Qui sono costretti a fargli farlo. Quindi direi che al di là di tutto. Sta anche bene dal punto di vista fisico. È l'uomo in più che ci può essere in alcune circostanze. Perché porta superiorità numerica. Avendo questa grande capacità di saltare l'avversario nell'uno contro uno. Il ritorno di Vessino? Ma lui ha giocato solamente dieci partite. Quest'anno da titolare poi alla fine. Perché c'è stato un inizio un po' difficoltoso. Arrivava dai mondiali. Però lo vediamo qui. Qui riceve palla in verticale da Joao Mario. Si cercano. Il centrocampo era un po' atipico. Con lui è Joao Mario. E con Brozovic basso. Lui riceve il pallone. Molto bravo a tenerlo. Scarica verso D'Ambrosio per andare a riprenderlo poi nel mezzo. Qui D'Ambrosio era in fuorigioco. Però le sue capacità e le sue qualità sono queste. Quella di aderare la palla e poi di andare ad attaccare la profondità. Qui andiamo a vedere che c'è sempre Politano. Comunque nell'uno contro uno con Brozovic fuori. E lui al centro dell'area di rigore. Ricordiamo che lo scorso anno la Champions League è stata conquistata anche grazie ad un suo gol. Quindi direi che al di là di tutto la sua capacità grande è quella di essere all'interno dell'area di rigore. Di proporsi, di inserirsi con i tempi giusti. E di trovarsi delle situazioni che sono situazioni anche di gol. Qui lo vediamo dare una palla. Poi vediamo la catena. Perché qui ci sono D'Ambrosio, Politano e Vessino. Qui dà la palla in profondità a Politano. A mio modo di vedere qui poteva starci anche il calcio di rigore. Devo dirti la verità. Non è stata rivista poi l'azione e poteva starci. Però abbiamo visto come già questa era la catena di destra. D'Ambrosio, Vessino, Politano abbiano lavorato comunque in armonia. Un focus sulla catena di destra perché contro Sassuolo l'Inter ha attaccato principalmente sulla corsia a destra. Sì, come dicevo è stata abbastanza equilibrata tra destra e sinistra. Però le cose migliori a mio modo di vedere si sono viste a destra. Dove ha lavorato tanto Vessino quanto Gio Mario in alcune circostanze si è spostato. Qui vediamo Vessino proprio che dà la palla a D'Ambrosio e Politano che va ad attaccare lo spazio. Alza la testa, ha la possibilità di riscaricare nuovamente per D'Ambrosio che mette la palla all'interno di nuovo per Vessino. Quindi molto bravi a trovare i tempi giusti. Qui è stato bravissimo Locatelli ad intervenire. Altrimenti Vessino si sarebbe ritrovato veramente a calciare in porta all'interno dell'area di rigore. Qui di nuovo l'azione sempre con Politano. D'Ambrosio alza la testa. Qui svuotano. Vedi come si alza Vessino, toglie l'uomo e si inserisce Perisic che va a calciare. Il fuorigioco è veramente di poco ma si vede proprio il movimento di Vessino che si allontana dalla zona facendo salire l'uomo con Perisic che fa un taglio molto lungo, eccolo qui, un taglio molto lungo in profondità e va a calciare sul secondo palo, anche qui un'occasione importante se vogliamo per l'Inter, ben sfruttata proprio perché la catena di destra soprattutto si è saputa muovere molto bene e di conseguenza ha creato diverse occasioni.